Ciao ben trovati a tutti, allora il punto sul Fuzzimib di oggi dopo la sessione negativa siamo sul time frame daily, candela appunto negativa non chiude proprio sui minimi e non forma neanche un pattern ribassista, è semplicemente una candela negativa che si va a collocare in un'area di incertezza, di trading range, qui vediamo il gap down che il prezzo non è stato poi in grado di rompere formando anzi proprio una resistenza statica, si è andati quindi sostanzialmente a questo livello a chiudere e poi dopo triplo massimo il prezzo scende e al momento sembra sostanzialmente ingabbiato oltre che in un trading range inteso come rettangolo che andiamo a evidenziare, eccoci qua, sembra ancora di più ingabbiato anche in un triangolo sostanzialmente con, seppur di breve, comunque con minimi crescenti e massimi decrescenti, triangolo che a sua volta è inserito in un'area di rettangolo, quindi siamo proprio in una fase di totale incertezza. In quest'area però vediamo come ci sia un maggior numero di candele verdi, segnale che comunque si tende a comprare i mini e tutta quest'area è comunque a sua volta un'area supportiva importante che andiamo a evidenziare anche nel lungo periodo, prima a questo livello, aria 21.000 e poi ancora indietro, eccoci qua, aria 20.900, 21.000 punti e 100. Siamo sostanzialmente dopo una lunga fase ribassista in un'area nella quale i compratori stanno iniziando probabilmente ad accumulare. Il movimento rialzista credo che si potrà avere soprattutto sulla rottura dei 21.500 punti, 21.450, quindi in pratica secondo me sull'uscita al rialzo da questa fase di trading range, quindi sulla rottura e rialzo di questo triangolo sopra i 21.450 punti si potrebbe avere la ripartenza. È vero che la candela di oggi non è una candela che lascia presupporre una rottura veloce, dunque domani abbiamo la Fed e quindi occhio a quello che sarà la volatilità perché poi da giovedì se la Fed darà un impulso rialzista all'azionario, da giovedì con la rottura di 21.450 si potrebbe avere una ripartenza rialzista. Questa è la situazione sul Fuzzinib di breve. Un saluto a tutti. Vi aspetto al webinar di domani mercoledì alle ore 20 per iscriversi e l'indirizzo è sotto in descrizione sotto il video. Buon trading a tutti.